Il mio intervento di oggi voleva illustrare il percorso di confronto avuto con la Regione nella stesura della nuova legge urbanistica. Un confronto che ha toccato evidentemente temi molto complessi ma che si è concentrato prevalentemente per quanto riguarda noi i temi inerenti alla pianificazione territoriale e alla centralità del progetto urbano. Su questo abbiamo trovato un campo di confronto molto interessante e molto produttivo.